Siamo con Marco Pios, settimo classificato del torneo DIP delle ISOP, intanto complimenti, ricordiamo che hai vinto un ticket per il main da 9,90, che non è male, esatto, insomma mi stavi raccontando che sei stato sfortunato. Sì, la solita guerra tra bui, piccolo e grande, si è appoggiato con Asso K, c'è stata una serie di bet, un hero call al Tarn con Asso K, a K River, e io avevo preso a donna il flop, non voleva passare a sorella, ci può stare. Allora, intanto ringraziamo la tua fidanzata che ti è stata dietro, è stata paziente. La saluto, saluto mio fratello e i suoi amici che mi hanno seguito, grazie a tutti. Allora, intanto, vabbè, diciamo un ottimo risultato, speriamo di fare ancora meglio al main. Speriamo, sì, sì, ci proviamo, dai. Allora ci rivediamo, insomma, al main. Grazie a te. Grazie mille, ciao, ciao.